Dalla Commissione europea arriva una nuova proposta legislativa sul trasporto combinato delle merci, con l'obiettivo di renderlo più sostenibile e competitivo. Durante le operazioni di trasporto intermodale, un'unità di carico, come un container, viene spostata attraverso una combinazione di camion, treno, chiatta, nave o aereo. Il trasporto combinato è una sorta di trasporto intermodale che combina la flessibilità del trasporto su strada con le prestazioni ambientali della ferrovia, delle vie navigabili interne o del trasporto marittimo a corto raggio per la tratta principale del viaggio. Oltre alle misure normative esistenti, la proposta introduce un'esenzione dai divieti temporanei di circolazione, come i divieti di circolazione nel fine settimana, per il trasporto combinato. L'obiettivo è migliorare l'utilizzo delle infrastrutture, consentendo ai camion di raggiungere i terminali man mano che hanno bisogno, sulla base degli orari di partenza di treni, chiatte o navi. La proposta fissa un obiettivo di competitività per gli Stati membri di ridurre di almeno il 10% il costo medio delle operazioni di trasporto combinato, porta a porta, entro sette anni. La proposta della Commissione sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.